Buon pomeriggio da Bruxelles. Siamo qui a Reuniti per la prima sessione plenaria di quest'anno 2021. Alla fine dell'anno scorso, dopo intensi negoziati, sono stati raggiunti due importanti accordi per l'Unione Europea. Il primo, raggiunto tra l'altro in extremis, è quello per un nuovo trattato di partenariato con il Regno Unito. In futuro la Gran Bretagna non farà più parte del mercato unico europeo, ma lo scambio di merci senza dazi continuerà ad essere garantito. Io penso che si tratti di un accordo importante anche per la nostra regione, visto che i prodotti agricoli, alimentari, le bevande, costituiscono comunque una parte importante delle esportazioni verso la Gran Bretagna. Il nuovo accordo è entrato in vigore in maniera provvisoria il 1 gennaio, ma manca l'approvazione del nostro Parlamento. Attualmente stiamo esaminando il testo del negoziato nelle varie commissioni parlamentari e probabilmente lo voteremo poi in plenaria a marzo. Un secondo, non meno importante accordo è stato raggiunto il 18 dicembre tra il Parlamento e il Consiglio sul Fondo di ricostruzione, il Recovery Fund, post-coronavirus da 672 miliardi di euro. Gli Stati membri hanno tempo fino ad aprile adesso per presentare alle commissioni i loro piani nazionali di ripresa e di resilienza. Anche in questo caso però manca il voto finale del Parlamento che è atteso poi per febbraio. Questa settimana però abbiamo fatto un importante passo in avanti. Il Parlamento ha adottato lo strumento di assistenza tecnica per accelerare la ripresa della crisi legata al Covid. Attraverso questo strumento gli Stati membri stanno già ricevendo sostegno nella preparazione e poi nella successiva attuazione dei loro piani nazionali. Durante i dibattiti in Aula con la commissaria responsabile dell'assoluta Estella Chiariachidis, il Parlamento ha mostrato un ampio sostegno alla strategia globale di vaccinazione contro il coronavirus. Chiediamo piena trasparenza sui contratti di acquisto e anche sull'uso dei vaccini. La Commissione ha presentato gli obiettivi di vaccinazione e ha chiesto alle Stati membri di aver vaccinato almeno il 70% della popolazione adulta e comunque tutti quelli che lo desiderano entro l'estate del 2021. Un numero sufficiente di vaccini sarà poi disponibile attraverso i contratti di acquisto che abbiamo concluso. Abbiamo inoltre approvato una serie di risoluzioni tra le quali una per sostenere le reti di trasporto transeuropee. Tra queste reti troviamo i tunnel in base di Prenno, che è un progetto centrale delle reti di trasporto transeuropee e cofinanziato dall'Unione Europea. Poi il Parlamento ha chiesto con forza la liberazione dell'oppositore russo Navalny e chiede all'Unione Europea di estendere le sanzioni ai funzionari russi coinvolti nella sua detenzione. Questo per oggi è tutto. Un cordiale saluto qui da Bruxelles. Aprende che la buscurare le reti di trasportootine le tue colline russi coinvolti nella sua vita. Potredo lo tu handic Communication